È visibilmente preoccupato Stefano Candiani, senatore, storico esponente leghista, già braccio destro dell'allora ministro Salvini al Viminale e attento osservatore della delicata questione ucraina. Oltre alle ripercussioni umanitarie che lo spingono a condannare fermamente l'operato di Putin, l'ex sindaco di Tradate è allarmato dalle ricadute energetiche. Per anni, sentenze, l'Italia si è consegnata mani e piedi alle fonti estere. Oggi paghiamo il prezzo di scelte mancate e di immancabili comitati del no. Quello che noi chiediamo al governo, su cui ci stiamo impegnando in maniera seria, attraverso le risoluzioni che nei prossimi giorni saranno approvate in Parlamento, è che qualsiasi azione non possa essere fatta non tenendo conto ovviamente degli strascichi economici. Perché è evidente che non possiamo permettere che oggi una Russia, o meglio una gestione come quella di Putin, diventi esempio anche per altri, ma nello stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che noi siamo l'anello debole all'interno della catena economica europea e mondiale. Perché dipendiamo con le forniture di gas dalla Russia piuttosto che da altri provvigionamenti che vengono dall'estero in maniera eccessiva. Abbiamo il 42% dell'approvvigionamento del metano che viene da quelle parti. Ha la sensazione che la Lega abbia concesso forse troppa simpatia a Putin che oggi si sta rivelando ben più aggressivo della media occidentale? Chi fa questo tipo di considerazioni non tiene conto né del tempo né del modo né del luogo. Cioè parlare oggi di Putin e parlare con Putin quattro anni fa, due anni fa, tre anni fa, un anno fa, era doveroso. Perché chiunque fa politica e fa politica estera sa che non bisogna impedire che ci siano ovviamente canali di comunicazione e soprattutto che ci sia interlocuzione. Isolare una posizione può produrre un effetto paradossalmente come quello della Nord Corea, quindi estremizzazioni delle posizioni. Quindi l'interlocuzione la devono fare tutti. Magari qualcuno l'ha fatta in maniera eccessiva, noi siamo sempre stati molto prudenti e soprattutto abbiamo sempre detto una cosa. Non si può fare a meno, ragionando in termini di stabilità dell'Europa, di ragionare anche sul quadro orientale. Quindi la Russia e tutti i suoi satelliti. È evidente che in questo caso quello che è entrato in campo è una politica internazionale molto importante perché la Cina ha preso una posizione molto sfumata. C'è l'India dall'altra parte, ci sono gli Stati Uniti. Quindi non è solo una questione legata all'Ucrania ma sono pesi e contrapesi ben più importanti. Sul fronte italiano spesso la Lega viene accusata di essere la vecchia Lega di lotta e di governo anche all'interno dell'esecutivo Draghi. Insomma siete dentro o fuori? No, no, calma. La Lega resta la Lega di lotta e di governo, intendendo con questo in maniera molto semplice. Se ci sono dei problemi noi li rapportiamo e li presentiamo ovviamente al governo. E poi questi devono essere considerati perché mai più essere, o soprattutto mai, bisogna essere semplicemente filogovernativi. Cioè tutto quello che fa il governo va bene a prescindere. No, noi rappresentiamo un territorio, nel caso specifico il nostro territorio molto laborioso, Lombardo e Varesotto, che ha dei problemi e che subisce ovviamente delle scelte nazionali. Queste scelte devono trovare ovviamente un loro sbocco e una loro considerazione all'interno delle politiche del governo.